Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di un argomento che un anno fa, prima che iniziassi a viaggiare, veramente non avevo idea di cosa volesse dire vivere in un ostello, perché da quello che mi sono reso conto in Italia ci sono tutti i falsi miti degli ostelli, che sono sporchi, sono piccoli, non hai posto per dormire, di notte c'è casino. Per carità, ogni ostello è diverso. Io adesso vi racconterò la mia esperienza, principalmente negli ostelli che ho avuto qua in Australia. La prima cosa che voglio trattare è riguardo al discorso stanze. In ogni ostello di solito ci sono diversi tipi di stanze. Innanzitutto, di solito, se sei maschio, puoi scegliere solo la stanza mista, invece le ragazze possono scegliere o stanza solo ragazze o stanza mista. In più, potete scegliere se volete una stanza comune o se volete una stanza privata. Spesso puoi anche scegliere stanza privata col bagno in comune o stanza privata col bagno privato. Ovviamente cambia il prezzo. Di solito in ogni ostello, ogni stanza, ha almeno un box con lucchetto che vi dovete portare voi. Infatti è importantissimo avere il lucchetto per mettere dentro magari i vostri oggetti personali, le cose un po' più di valore, il passaporto, eccetera. Però mi è capitato anche in ostelli che non ci fosse niente. Quindi vi consiglio di magari portarvi, se avete una valigia o uno zaino, che potete magari chiudere col lucchetto giusto per sicurezza. Io non ho mai sentito nessuno che hanno rubato, che si è trovato senza cose, senza computer, eccetera. Perché da quello che ho potuto vedere io, almeno qua in Australia, tutti siamo con il Working Holiday Visa o con lo Student Visa, insomma siamo tutti nella stessa barca. Quindi siamo da soli, cerchiamo amicizie, cerchiamo compagnia per andare a fare escursioni, cerchiamo consigli per trovare lavoro. Quindi diciamo che secondo me si può stare tranquilli. Però comunque attenzione, cercate di non lasciare il vostro computer nell'area comune per tutto il giorno, quello è chiaro. Inoltre, nelle stanze, io quasi in tutti gli ostelli, devo dire, ho trovato una specie di cassettoni che puoi tirar fuori da sotto al letto, dove puoi mettere i tuoi vestiti e usarli un po' come armadio. Generalmente, non l'avevo detto prima, tutti i letti sono a castello, di solito, non sempre però. Adesso volevo parlarvi un po' del discorso cucina. Quindi di solito in tutti gli ostelli che ho trovato ci sono tanti fornelli, quindi magari sei, otto, dieci fornelli, anche di più a volte. Spesso c'è almeno un forno o anche due, tre, così. Poi c'è il bollitore, c'è il tostapane, a volte magari c'è anche la frigitrice ad aria. Insomma, ci sono tutti questi accessori che ti possono aiutare a cucinare. In ogni ostellio c'è la regola che te quando cucini, prendi le tue pentole, le usi e le lavi. Se no, spesso ti mettono la multa, ci sono ostelli che sono più severi, anche se lasci la due minuti la pentola sporca, multa. L'ostello invece è un po' meno, però dopo dipende da ostello a ostello. Poi riguardo al cibo, dove potrete tenere il vostro cibo? Allora, ci sono spesso, ci sono dei cassettoni, quindi una sorta di dispensa, dove ognuno ha il suo box e c'è un'etichetta dove mettete il vostro nome, la vostra stanza e la vostra data di checkout. E là dentro potete mettere tutte le vostre cose. Io non ho mai sentito nessuno che gli è stato rubato qualcosa. Può capitare, ma non mi è mai capitato, insomma. Poi invece per le cose da tenere in frigo, di solito ci sono grandi frighi, dove voi vi prendete praticamente le borse frigo, che qua si trovano dal Coles o dal Woolworths, sono i supermercati principali qua in Australia. E voi mettete dentro la vostra cosa, attaccate l'etichetta, sempre stessa storia, nome, stanza e data di checkout. E voi ogni volta prendetelo, rimettete nel frigo, vi prendete le cose, eccetera. Poi dopo parlando un po' di aree comuni, di solito c'è la sala da pranzo, quindi con tavolate grandi, magari con le panche, eccetera, la parte all'aperto, magari la parte al coperto. Poi di solito nella sala pranzo, tra la sala pranzo e la cucina, ci sono sempre dei grandi box dove c'è il free food, e quindi ognuno se non ha bisogno di qualcosa, magari deve andare via, lascia là un pacco di pasta, insomma quello che hai in più che non riesci a mettere in valigia, lo lascia là. E quindi chi vuole lo prende, ma non sei obbligato a mettere giù. Cioè se vedi una cosa che ti interessa, te la prendi, te la usi. E dopo capiterà comunque quando andrai via, avrai roba in più e quindi la lasci là. Poi spesso c'è anche il free staff, quindi cose che non c'entrano con la cucina, che la gente non utilizza. Io per esempio a Kenzo ho trovato due tende, da tre persone l'una nuove, perché evidentemente chi le ha lasciate là non ci stavano in valigia, quindi insomma date sempre un'occhiata. Poi spesso negli ostelli c'è anche la sala giochi, quindi magari ho trovato ostelli con il tavolo da biliardo, tavolo da ping pong, molto spesso ci sono anche carte, ci sono anche giochi da tavolo, eccetera. Insomma ci sono cose che cercano di legare le persone tutte insieme. Ho visto anche che nel 90% degli ostelli c'è una TV room, quindi una stanza dove puoi andare, è di solito aperta 24 ore su 24, quindi magari negli ostelli di solito le sale comuni chiudono verso mezzanotte o luna, invece nella TV room puoi stare anche tutta la notte a guardare film dove di solito c'è Netflix e tutti questi siti qua. Al nord Australia, che fa sempre caldo tutto l'anno, tutti gli ostelli hanno le piscine, anche perché tipo zona Cairns, comunque tutto il nord Australia, non puoi andare al mare, cioè non puoi andare nell'oceano, perché ci sono coccodrilli e ci sono meduse, quindi di solito tutti gli ostelli, ma anche spesso gli appartamenti, hanno delle piscine più grandi o meno grandi. Una cosa importantissima dell'ostello è che tutte le persone sono là per lo stesso motivo, quindi per viaggiare, per conoscere persone nuove, eccetera. Quindi è normalissimo che quando voi entrate, magari siete in sala da pranzo, siete in cucina, state cucinando, la gente verrà là a dirvi ciao, come stai, cosa fai, di dove sei, eccetera. Quindi ogni giorno andrete a conoscere tantissime persone nuove da tutte le parti del mondo e questa è una cosa bellissima. Però dopo, la cosa brutta, diciamo, a lungo andare, è che conosci sempre persone nuove, poi man mano la gente inizia a andare via, a cambiare ostello, a cambiare città, a tornare a casa e quindi dopo andrete a perderle, piano, però dopo andrete a farvene di nuove, poi magari andate via voi. Quindi diciamo che essendo qua a viaggiare da soli, dopo trovate queste persone un po' come la famiglia e quindi dopo è sempre brutto lasciarsi. Però purtroppo viaggiare è molto bello, però queste sono le cose un po' negative. Poi anche è bello quando conosci persone che magari è quasi ora di cena, si dice, sì dai andiamo a fare la spesa insieme, facciamo una cosa in forno, cuciniamo tutti insieme, magari mangi in 3-4, ti fai la mangiata tutti insieme. Anche questo è il bello. Di solito in ogni ostello c'è anche una sorta di calendario da lunedì alla domenica dove ti fanno vedere ogni giorno che magari c'è un evento. Magari un giorno c'è il free dinner, quindi vai là e fai la cena gratis, magari il giorno dopo c'è la festa in piscina, il giorno dopo c'è il beer pong, il giorno dopo c'è la serata a scacchi, quindi insomma ci sono tutte queste cose che magari puoi iscriverti e quindi fare ancora più conoscenza, divertirti e passare una bella serata. O se no, il bello è che anche comunque se conosci persone in ostello, magari non ci sono eventi, eccetera, dopo ci si organizza, andiamo a ballare in questo posto, andiamo a fare questa escursione, noleggiamo una macchina tutti insieme. Insomma, ci sono tutte queste cose che insomma ti tengono vivo e continui a viverti l'esperienza al meglio. Ok, l'ultima cosa che volevo parlare riguardo agli ostelli è il fatto della prenotazione. Allora, io vi parlo intanto qua in Australia, ma anche comunque vale in tutto il mondo. Io ho sempre fatto così, ho visto che è il metodo migliore, quindi se devo andare in una città, cerco su Hostelworld e Booking, cerco gli ostelli, mi guardo le foto, mi leggo le recensioni, vedo un po' i prezzi, mi faccio un'idea. Quando ho deciso, ok, quell'ostel è quello che voglio io, allora là si va a vedere che di solito il 99% hanno un sito proprio e là costa magari il 10, 15, 30% in meno anche rispetto a Booking, perché Booking e Hostelworld hanno le commissioni e quindi io vado sempre a prenotare là. Poi dopo almeno qua in Australia, se voi volete fare a lungo termine, potrete andare là nell'eception, dirgli, guarda, prenotami il mio letto fino a due mesi e io ti pago di settimana in settimana. Quindi ogni ostello ha il suo weekly rate ed è ogni settimana vai a pagare e puoi stare a lungo termine. Così non devi ogni volta magari cambiare stanza, devi cambiare letto, eccetera, e sei sempre là. Un po' come se fosse, diciamo, un appartamento abbastanza a lungo termine. Se no, poi, per chi magari ha più tempo libero e vuole un po' più risparmiare, si può anche fare un'application, quindi richiedere all'ostello se si può lavorare per accommodation. Quindi magari si va a parlare con il manager e il manager ti può dire, ok, te vieni 15 ore a settimana, 5 ore domani, 5 ore mercoledì, 5 ore venerdì, e te hai la settimana gratis di ostello. E quindi magari dopo puoi integrare con un secondo lavoro, vero, pagato, per avere i tuoi extra, i tuoi soldi nel conto in banca. Diciamo, questa è un po' la panoramica della vita in ostello. Se avete qualche dubbio, scrivetelo nei commenti, mettete like e iscrivetevi al canale. E ci vediamo al prossimo video. Grazie.